Ciao a tutti, sono sempre io, Marco Ferrari di Gruppo Carmeli. Oggi vi porterò a conoscere un'altra fantastica auto, la nostra Alfa Romeo Stelvio Veloce. Pur essendo il nostro ultimo modello, si nota come la nostra Alfa Romeo Stelvio si è rimasta fedele al suo stile originale, elegante e sportivo, che ne ha decretato il successo. Una grossa novità però c'è, ed è l'allestimento veloce, ovvero tutto quello che identifica le versioni più performanti della nostra gamma. Ora i colori sono divisi in quattro categorie, competizione, metal, solid e old timer. Ovviamente per ogni colore che voi andrete a scegliere ci saranno nuovi particolari da abbinare in tinta o in contrasto. Il tettuccio panoramico apribile elettronicamente e i cerchi in lega da 20 pollici bruniti ed ammantati sono optional, mentre non lo sono i nuovi fari Big Xenon che sono stati però ridisegnati nel design. Il vero restyling però lo possiamo notare all'interno della nostra Stelvio. Possiamo notare subito il nuovo volante completamente ridisegnato secondo un'ottica di comodità. Infatti abbiamo anche tanti tasti sul volante per poter controllare tutte le funzioni della nostra auto. Se spostiamo lo sguardo dal cuscotto possiamo notare la zona della console, ovvero del cambio, contornata da elementi lucidi. Non possiamo non notare però anche il DNA, quello che ci permette di cambiare la nostra modalità di guida in ogni situazione. Inoltre abbiamo il nuovo display da 8,8 pollici e il computer di bordo ridisegnato anch'esso da 7 pollici. Se ci spostiamo dietro invece possiamo notare i sedili posteriori più spaziosi, riscaldabili e due prese USB, così chi si siede dietro non deve fare a gara per sedersi davanti accanto al guidatore. Se ci spostiamo più indietro invece possiamo notare il portellone posteriore apribile elettronicamente, che ci porta direttamente verso il bagagliaio che ha una portata di 525 litri di spazio, così da poter viaggiare comodi anche con dei bagagli molto ingombranti. È nuovo anche l'infotainment con il nuovo display completamente ridisegnato da 8,8 pollici ad alta risoluzione, che si può comandare sia attraverso i comandi vocali che attraverso il tocco della mano. Si nota una grafica ottimizzata e un layout completamente nuovo che ci permette di modificare le schermate a nostro piacimento. Così sarà molto più semplice passare con un tocco dalla radio al navigatore, dai media al clima o dai servizi all'ADAS. E proprio di ADAS parleremo adesso perché anche i sistemi di sicurezza e di guida autonoma assistita sono stati completamente rinnovati. Si notano subito che il Traffic Sign Recognition e l'Intelligence Speed Control vanno a braccetto. Il primo rileva tutti i segnali stradali presenti sul percorso e il secondo modifica la velocità in base ai limiti presenti sulla strada. Il Driver Attention Assist invece si accorge se magari a tavola abbiamo esagerato un po' e ci sta venendo l'abbiocco. Infatti ci avvise immediatamente e ci mantiene la macchina all'interno della carreggiata. Infine abbiamo due sistemi innovativi della nostra Stelvio, il Traffic Jam Assist per le strade a scorrimento veloce e l'Highway Assist per l'autostrada, che supportano il conducente mantenendo il veicolo al centro della corsia e alla velocità preimpostata, adeguandola rispetto al veicolo che lo precede. Ma non pensate che le dimensioni condizionino negativamente la guida della nostra Alfa Romeo Stelvio perché non è così. Infatti abbinando le diverse modalità di guida al nostro motore 2.2 turbodiesel da 210 CV di potenza, rendono la nostra guida dinamica, maneggevole e sportiva, ideale per la città. Il cambio automatico ZF8 Rapporti e il motore silenziosissimo ci regalano infine il suo ideale. Ovviamente per maggiori informazioni potete venire in totale sicurezza di persona nelle nostre sedi outlet multimarca di Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, Brescia, Curno, Bergamo o Coccaglio, dove sono ora, nel nuovo centro outlet multimarca e usato. Ovviamente per altre informazioni non esitate a contattarci al nostro numero di telefono 030 77 24 011 oppure visitate il nostro sito www.gruppocarmeli.com Mi raccomando, non mancate il prossimo video! Grazie a tutti!